buongiorno cuori ciao a tutti questa mattina ho fatto un giro in serra perché ho voglia di colore voglia di primavera ho voglia di sfumature no ma dico guardate questa pianta è poco bella e queste queste campanule me ne sono innamorata poi le rose le roselline gialle sono stupende e poi ragazzi non poteva mancare vero non potevano mancare le viole del pensiero che ho intenzione di anche seccare un po le tengo per abbellire il mio balcone ma ha un po le tengo per seccarle guardate le sfumature che ho comprato a me piacciono tantissimo poi c'era anche una pona che volava di fiore in fiore e quella l'ho fotografata magari vi metto la foto nel video poi voglio farvi vedere cosa ho comprato perché sempre per voglia di profumo questo è un video estemporaneo e ragazzi quel che viene viene mi sono comperata questi bastoncini perché vi devo dire che mi sono presa l'hanno chiuso chiedo aiuto al marito per aprire questo perché altrimenti non ne andiamo più in fondo aprimelo con una mano sola non ce la faccio bene allora ho comprato questo vero ambra e sandalo è profumatissimo da usare coi bastoncini poi guardate questo allora appena l'ho visto me lo sono preso perché mi piace tantissimo e indovinate cosa voglio farci un bello stampo poi mi sono comprata del potpuri o come cacchio si pronuncia alla lavanda no ma dico guardate che belle cose che ci sono qui internamente e indovinate che uso ne farò niente vi farò vedere in un video creazioni quando lo userò cosa ne farò non e poi ho comprato delle coccinelle porta fortuna che si attaccano al frigo che sempre un po di fortuna ci vuole sia ad augurarla che caspita un po questa sporca e vabbè pazienza bene ragazzi questa è la mia mattinata adesso vado a casa a riporre tutto ciao cuori ciao a tutti grazie di seguirmi un bacione grande grazie a tutti grazie a tutti